Traffico in tilt per ore sul viadotto Gatto a Salerno, ma questa volta non si è trattato di una mattinata qualsiasi di ingorghi per la presenza di mezzi pesanti e di rallentamenti per il mal tempo. Intorno alle 7 di questa mattina il traffico non solo in direzione porto verso i caselli autostradali e lungo le strade della parte alta della città di Salerno è rimasto praticamente paralizzato. Un'autocisterna che percorreva via Fra Generoso, la strada che collega i vecchi caselli dell'autostrada con il viadotto Gatto ha perso olio sull'asfalto. Un tir e un altro autotreno che sopraggiungevano nella stessa direzione frenando hanno perso il controllo dei grossi mezzi scontrandosi. L'impatto per fortuna non ha registrato nessun ferito e l'epilogo dell'incidente avrebbe potuto essere ben diverso qualora in percorrenza ci fossero state anche vetture che inevitabilmente sarebbero rimaste schiacciate dai grossi mezzi. L'incidente poco lontano dal bivio che poi conduce a croce prima della galleria Salleo ha letteralmente bloccato tutto il traffico veicolare allungandosi velocemente fino a via Camillo Sorgente con ripercussioni fino alla tangenziale e al raccordo autostradale. Sul posto gli agenti della polizia stradale, i vigili urbani di Salerno ed alcune squadre del servizio strade per procedere all'operazione di contenimento dell'olio riversato sull'asfalto che per la pioggerellina delle prime ore del mattino è colato fin anche all'incrocio con il viadotto Gatto. Una lunga scia pericolosa ha provocato infatti ulteriori rallentamenti. Una mattinata lunghissima che ha lasciato chiuso per ore il tratto di strada che conduce al porto bloccando di fatto tutti i tir diretti allo scalo salernitano. La vicenda dell'incidente tra due camion nei pressi del viadotto Gatto riaccende le polemiche in città con il consigliere comunale Dante Santoro che sul tema ha sempre mantenuto alta l'attenzione sulla mobilità cittadina. La viabilità negata e il diritto alla mobilità leso da anni a Salerno sono uno dei disastri che ci troviamo a fronteggiare dopo anni di amministrazione delle vergogne. Così in una nota il consigliere dell'opposizione Dante Santoro. Il viadotto Gatto dopo le mie estrenue battaglie ha ricevuto una minima ma non bastevole manutenzione ma quando si vedrà un piano traffico vero una volta per tutte e si avrà anche un'implementazione del corpo della Polizia Municipale a servizio della viabilità. Domande queste che poniamo da tempo ma con il nuovo corso restano i vecchi rumorosi silenzi. Così conclude Santoro.